Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video ma che è successo al mondo cripto? Bitcoin in questo momento che sto registrando è sui 24.000 dollari la maggior parte delle altcoins sta performando abbastanza bene questo movimento è stato inaspettato perché in America abbiamo visto di nuovo i dati sul PIL negativi e quindi in automatico quando per la seconda volta in un anno i dati sono negativi si è in recessione però attenzione perché il mondo cripto ha reagito in maniera positiva e ve la faccio breve prima cosa il mercato è irrazionale ve lo dico sempre quando tutti ci aspettiamo che il mondo cripto scenda come in questo caso poi si registrano questi pump purtroppo è così ma cosa importante perché realmente il mercato cripto sta reagendo bene a queste notizie perché la Fed a causa di questi dati negativi del PIL non potrà continuare la sua diciamo politica monetaria aggressiva per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse che serve a combattere l'inflazione che ormai ha livelli altissimi in America quindi per questo ci sarà un'azione più cauta della Fed e ragazzi il mercato in poche parole è già scontato tutto ciò e per questo motivo vediamo questo rally sul prezzo di bitcoin e le criptovalute un'altra cosa importante che tremo a mostrarvi adesso passiamo un attimo ai grafici è che in molti mi dite sempre Stefano ma come tu ieri eri bullish adesso sei bearish allora ragazzi io faccio trading e infatti apro e chiudo posizioni ad esempio ieri ho aperto una posizione long a un retest di una resistenza importante tra poco vi mostro sul grafico perché l'ho fatto però vi dico che se il prezzo di bitcoin va long oppure va short quindi sono bullish oppure bearish cambia spesso perché facendo trading purtroppo è così nel senso che io aspiro a cambiamenti del prezzo che siano verso l'alto o verso il basso quindi in entrambi i casi voglio trarre profitto e se sono bullish ve lo dico e vi spiego il perché se sono bearish ve lo dico e vi spiego anche il perché basta guardare i grafici e subito si capisce ieri ad esempio eravamo col prezzo di bitcoin in questo range qui di prezzo vi ho aspettato il retest più volte questo qui è il grafico orario il retest vero e proprio è avvenuto qui adesso ve lo disegno qui però purtroppo essendo estate io ero per strada mi sono perso questa risalita ho aperto la posizione all'incirca qui quindi a un retest di questa resistenza che poi è diventato un supporto il prezzo di bitcoin di solito o delle crypto in generale di tutti gli asset quando ci sono questi retest poi significa che il prezzo dovrebbe risalire rinvalzare lo stesso avviene poi sulla resistenza oppure in questo caso su un supporto quindi siamo arrivati diciamo all'incirca su 24.000 che era una resistenza molto importante eccola qui quindi per questo ho messo il take profit un po' prima di questa resistenza diciamo non ho fatto nulla di che era una semplicissima operazione però vi dico che nel momento in cui diciamo il prezzo di bitcoin ad esempio anche ora se dovesse continuare a perdere questo momentum realzista quindi andare sotto qui facciamo il retest il famosissimo retest di questa resistenza se vedo che il prezzo sta scendendo aprirei di nuovo una posizione short su bitcoin quindi per farvi capire che a me principalmente facendo trading interessa più questo che solo ovviamente investimento normale in cui aspiro al prezzo di su 40.000 e 35.000 perché anche io faccio piani di accumulo dollar cost averaging su bitcoin e ethereum però principalmente ogni giorno faccio trading detto questo ragazzi però passiamo al concetto più importante al fulcro del video scusatemi perché voglio parlarvi di crow come tutte le altre altcoins anche crow grazie ad ethereum che ha avuto un uptrend fortissimo sta in questo caso crow registrando delle performance molto positive però anche in questo caso vi dico di stare molto attenti perché potremmo benissimamente ritornare sui 0.13 per crow e se perdessimo questa trend line potremmo ritornare su quest'altra trend line che ho tracciato spesso e ho fatto vedere che intorno il prezzo intorno sui 0.10 0.11 quindi anche in questo caso aprirei posizioni short e long in base ai miei studi e come vi dico sempre ragazzi non sono mai consigli finanziari perché io non sono un consulente non sono nessuno è semplicemente una passione quindi non posso darvi consigli fate sempre le vostre ricerche aprite e chiudete posizioni in base a quello che pensate date un'occhiata anche ai volumi e proprio per questo ragazzi crow potrebbe benissimamente continuare a salire come lo sta facendo ethereum però si sta avvicinando il famosissimo weekend e quando ci sono i weekend in questo momento sta dampando il prezzo di crow vabbè stiamo sull'orario potremmo raggiungere in questo caso la media a 26 periodi questa qui arancione però vi dico che per quanto riguarda le weekend potrebbero esserci meno volumi e per questo motivo ancora ragazzi il prezzo di bitcoin così come ha avuto il pump dalle 20 dell'altro ieri potremmo benissimamente scusate sempre il benissimamente potremmo ritornare di nuovo su questi livelli dei 22.000 21.000 per bitcoin senza nessun problema perché vi ripeto che durante il weekend i volumi sono ancora più bassi già sono bassi in questi giorni poi durante il weekend ancora più bassi e il prezzo delle maggiori criptovalute potrebbe ancora calare detto questo ragazzi però prima di continuare passiamo allo sponsor del video di oggi nel caso in cui vogliate saltare lo sponsor del video vi lascio i capitoli qui in basso così lo saltate in maniera semplicissima QP è una piattaforma che reputo molto interessante perché spesso vi ho parlato di sicurezza e soprattutto possiamo utilizzarla per acquistare criptovalute farci bonifici in euro, dollaro, pound e soprattutto poi crearci un wallet decentralizzato quindi le nostre criptovalute non saranno al sicuro questo qui quindi ragazzi è il sito in questione e in questa schermata viene fatto un piccolo rassunto di quello che vi ho detto nel caso in descrizione di questo video troverete tutti i link necessari per approfondire il tutto e c'è anche il link per scaricare poi l'applicazione tramite App Store oppure anche Play Store per Android cosa che tengo a sottolineare è che l'apertura del conto avviene in pochissimi istanti e che soprattutto c'è possibilità di scegliere tra euro, sterline o dollari e abbiamo anche poi un supporto disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 in diverse lingue possiamo poi fare scambi di criptovalute oppure anche tra criptovalute fiat in modo semplice soprattutto poi nella sezione media qui in basso vediamo anche diversi giornali che parlano bene di questa piattaforma per ora basta passiamo subito all'applicazione ripeto che possiamo scaricare in pochissimi istanti questa qui è l'home page dell'applicazione è davvero semplicissimo utilizzarla in alto vediamo il nostro balance in bitcoin oppure in dollari e qui invece vediamo le diverse criptovalute che possono essere bitcoin usdt bitcoin cash tron ethereum litecoin e c'è possibilità cosa importantissima ragazzi di creare il nostro save wallet che è un wallet non custodial decentralizzato per attenere al sicuro al 100% le nostre criptovalute questa cosa è importantissima perché già vi ho detto che spesso vi ho parlato di sicurezza questo qui è un wallet semplice si scarica in pochi minuti l'account si apre in pochissimo tempo e soprattutto poi c'è anche possibilità di sfruttare questo wallet basta cliccare qui su add wallet o possiamo crearne uno nuovo in pochissimi click e scegliere la criptovaluta e possiamo anche importarne qualcuno che abbiamo già creato a importarlo poi su questa applicazione questo qui è il nostro account che possiamo creare per rinviare e ricevere le varie valute c'è il pound gli euro e i dollari cosa davvero importante e come ultima funzione abbiamo invece la ricarica tramite telefono nel caso in cui vogliamo ricaricare il conto con il nostro credito telefonico poi qui abbiamo la sezione exchange al centro e possiamo fare gli scambi tramite bitcoin oppure altre valute e viceversa quindi davvero semplicissimo e in basso a destra abbiamo la sezione settings cioè impostazioni detto questo ragazzi come al solito tutti i link sono qui in basso in descrizione dategli assolutamente un'occhiata ora diamo un attimo un'occhiata però al bitcoin fear and greed index perché siamo al numero 39 ragazzi che non è per niente male pian piano ci stiamo riprendendo e stiamo andando verso una zona neutrale se il prezzo di bitcoin continuasse a questo non ve l'ho detto questo uptrend la prossima esistenza potrebbe essere quella dei 25.396 che corrisponde al vecchio down del prezzo qui all'incirca adesso vi faccio vedere meglio eccolo qui il prezzo di bitcoin il 12 maggio ebbe questo spike verso il basso quindi questa potrebbe essere una forte resistenza da rompere e se rompessimo con forza anche questo già ve l'ho detto potremmo fare una cosa del genere e salire anche sull'altra resistenza che è diventato 28.000 scusatemi quindi io sto monitorando la situazione vediamo un po' come sono i volumi in questi giorni se c'è un retest di questa resistenza perché ovviamente ragazzi operare con pochi volumi è rischioso però nel momento in cui vedo volumi abbastanza importanti sia bearish che bullish ovviamente aprirei una posizione e cosa importante ancora ragazzi che volevo dirvi è che in descrizione trovate i vari link dei vari bonus e c'è un bonus che vi permette di ricevere 3 dollari fino a 3.000 dollari è una sorta di lotteria io ho ricevuto 100 ho ricevuto anche il 3.000 al massimo ho ricevuto spesso 3 anzi spesso ricevo sempre 3 dollari però vabbè non costa nulla provarci e senza deposito quindi nel caso il link qui in basso in descrizione e con un ultimissimo link date un'occhiata anche a quello di Young Platform che vi dà 10 euro di bonus e c'è possibilità anche di consultare un academy davvero semplicissima sulla blockchain cripto economia cripto valute cripto heroes in questo caso economia e vi registrate tramite il mio link avete 10 euro di bonus e consultate l'academy ok ragazzi detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi